Oggi è San Luigi Gonzaga, un santo gesuita, giovanissimo, che ha testimoniato con la sua vita che bisogna mettere al primo posto il servizio al regno di Dio. Un santo giovane molto coraggioso ha donato la sua giovane vita per aiutare i malati. Ho accennato a questo santo perché i Vangeli di questi giorni sono molto interessanti e pregni di riflessioni profonde che devono cambiare la nostra vita, devono entrare nel più profondo del nostro cuore. Ovviamente è un lavoro da fare per anni, non è un cambiamento che si può ottenere da un giorno all'altro, ma dobbiamo comprendere dove dobbiamo cambiare, qual è l'aspetto della nostra vita che dobbiamo cambiare. Se appunto guardiamo ai santi, la cosa più importante della vita cristiana è soprattutto la carità. È vero che tanti santi si sono dedicati alla penitenza, anche corporale, ma quello che più è importante è sicuramente la carità. La penitenza che questi cristiani praticavano avevano come riferimento puramente la carità, non altre cose, perché quello che rimarrà nell'eternità è proprio l'amore. Non certo il cilicio che abbiamo messo alla vita. Ieri il Vangelo ci ha proposto l'insegnamento di Gesù riguardo alla preghiera, cioè il Padre Nostro. Una preghiera molto sintetica, sintetizza in modo straordinario ed eloquente tutto il Vangelo. Prima di tutto, quando esordisce, chiamando Dio Padre Nostro. In queste due paroline sta tutta la filosofia cristiana. Dio è soprattutto padre di noi tutti. E tutti noi siamo fratelli. Ecco che in queste due parole emergono le due dimensioni del cristianesimo. L'amore dell'uomo verso Dio, Padre, e l'amore tra di noi fratelli. Non un amore qualsiasi da sconosciuti, che tante volte si fa per dovere, o perché qualcosa si muove nella nostra coscienza, ma dobbiamo pensare che l'altro, che il prossimo, sia il nostro fratello. Anche le prime letture che ci hanno proposto la liturgia sono molto significative e pregne di riflessioni e sono tratte dalle lettere di San Paolo Apostolo. Quella di ieri, di giovedì, esorta i corinzi a non sviare dalla dottrina imparata dai veri cristiani. Non dovete essere pronti ad accettare una dottrina diversa da quella che noi vi abbiamo proposto. È un po' il tarlo anche dei nostri tempi. È un tarlo, si vede, che è esistito sempre. Quando ci propongono una dottrina più facile da seguire rispetto al cristianesimo, siamo pronti a seguirlo. Siamo pronti ad essere apostoli di queste nuove dottrine, perché sono più facili, perché ci portano forse a far vibrare una parte del nostro cuore che invece col cristianesimo, che comunque impegna totalmente la persona in tutti i suoi aspetti, fa fatica a vibrare. Ed è quello che esorta San Paolo ai corinzi. Vi prego di non sviare dalla vostra dottrina, perché è la verità che noi vi abbiamo annunziato tramite il Vangelo. È quella vera, è solamente quella vera. E cioè che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, perché vi ama. E la dottrina annunciata dai cristiani è sicuramente quella poi spiegata nel Padre Nostro, nel Vangelo. Invece oggi, venerdì, San Paolo, sempre rivolgendosi ai corinzi, la stessa lettera di ieri, prende un aspetto dei corinzi, cioè quello che si vanta delle proprie discendenze. Ma Paolo ha la risposta pronta, diremmo noi, cioè che anche lui avrebbe da vantarsi dal punto di vista umano. Ma non è la discendenza da cui proviene la cosa più importante per il suo ministero, per la sua vita spirituale. La cosa più importante della sua vita nello spirito è senz'altro il fatto che è stato perseguitato per la sua fede. Praticamente la gloria che Gesù Cristo ha annunciato sulla croce, quando ha accettato nel momento della passione l'abbandono da parte dei suoi discepoli e l'obroprio da parte dei soldati romani, dei farisei e di tutti coloro che gioivano nel vederlo soffrire e desideravano eliminarlo. San Paolo si vanta quindi della croce di Cristo nella sua vita. In tutti i momenti in cui lui ha sofferto è stata glorificata nella sua vita la croce di Cristo. Quindi elenca nelle percosse, nel pericolo di morte e racconta in sequenza quello che gli è accaduto durante il suo ministero apostolico. Gli freddo, la nudità, le persecuzioni, le percosse, ma lui si vanta della sua debolezza, della croce di Cristo. E questo è importante nella vita del cristiano. È una visione totalmente ribaltata rispetto a quella umana che direbbe quando tu hai successo ecco, tu sei un uomo in gamba. San Paolo ribalta questa concezione umana e fa riflettere i corinzi sul punto nodale del cristianesimo. È Dio che ha in mano l'esistenza degli uomini, nessun altro. E il Vangelo non fa altro che sottolineare questo aspetto. Il Vangelo è sintetizzata dall'antifona dell'acclamazione al Vangelo. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Certamente. e con una frase il Vangelo sintetizza quello che è l'uomo che dovrebbe avere in cuore l'uomo nel suo rapporto con Dio e con il prossimo. Non accumulatevi tesori sulla terra dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano. Non abbiate in cuore nulla. Dovete indirizzare tutti i vostri affetti in Dio perché quello è sicuramente la chiave dell'esistenza del cristiano. L'amore per Dio il vivere da cristiano veramente perché là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Se il tuo tesoro è Dio il tuo cuore si indirizzerà senz'altro forse sbandando un po' perché comunque siamo umani e fatti di carne non solo di spirito ma il tuo cuore da cristiano si indirizzerà sicuramente al servizio di Dio e del prossimo il tuo cuore anellerà completamente alla vita eterna. C'è una canzone dedicata a Chiara Badano quella beata nata a Sassello che anche lei come San Luigi Gonzaga a soli 19 anni 18 anni ha saputo offrire la sua esistenza per la salvezza dell'uomo. La sua vita sembrava un fallimento così come racconta San Paolo nella lettera dei Corinzi eppure ha smosso tante persone le ha portate davanti alla sua tomba e ha annunciato oltre il tempo della sua vita terrena che la vita ha uno scopo maggiore rispetto a quello che noi facciamo sulla terra. Dobbiamo rendere la nostra vita terrena eterna dobbiamo darlo un carattere eterno e questo lo si può fare semplicemente vivendo l'amore. E questa canzone ritorniamo a questo punto dedicata a Chiara Luce Badano si sottolinea questo aspetto dice in una frase quello che noi cristiani stessi abbiamo in cuore una domanda che la domanda è per eccellenza la domanda che comunque pur essendo cristiani scava all'interno del nostro cuore la paura della morte è comunque presente dimmi Chiara che non c'è nulla da temere corri corri fammi capire che oltre quella porta che ci mette nell'eternità non dobbiamo temere perché ci sarà un padre disposto ad abbracciarci a perdonare tutti i nostri peccati non impegniamoci troppo e prendete queste mie parole capendole bene non impegniamoci solamente a migliorare taluni aspetti della nostra esistenza sì abbiamo un difetto predominante che dobbiamo temperare la temperanza è una virtù cardinale e cioè che sostiene anche le altre però dobbiamo farlo sicuramente in proiezione dell'amore non semplicemente puramente per avere anche davanti ai nostri occhi un'esistenza perfetta perché non faremmo altro che alimentare il nostro amor proprio e il nostro tra virgolette perfezionismo che abbiamo tutti ovviamente perché tutti desidereremo avere una esistenza al top non avere difetti perché sappiamo che comunque questi difetti ci fanno soffrire ma non deve essere questo l'obiettivo principale del nostro mutare esistenza dobbiamo avere in cuore sicuramente il desiderio di cambiare l'esistenza per amare e deve essere semplicemente l'amore il credere in Gesù il perno fondamentale della nostra esistenza nient'altro deve tutto vertere attorno a questo perno è un'esistenza di un'esistenza